Svogliata e per questo non ammessa alla seconda media. Una bambina che frequenta una scuola media della provincia di Teramo è stata bocciata con questa motivazione e la famiglia ha fatto ricorso al TAR. Il tribunale amministrativo ha concesso la sospensiva e l'alunna è stata ammessa alla classe successiva. Soddisfatta l'avvocato della famiglia della bimba, Marina Di Carlo, che spiega i dettagli della vicenda. Allora, era successo che questa ragazza aveva dei problemi di apprendimento che successivamente sono stati certificati dalla famiglia, ma la scuola non aveva assolutamente dato sentore ai genitori, non aveva dato stimolo che ci potessero essere dei problemi. Infatti la ragazza, la bambina, è stata bocciata. Sì, è stata bocciata, ma in realtà quello che la scuola andava, cioè la scuola andava a definire la minore come svogliata, in realtà non era svogliata, ma c'era, purtroppo era interessata da un vero e proprio problema di apprendimento. Il TAR ha dunque accolto la sospensiva? Sì, il TAR Abruzzo ha accolto la sospensiva dei miei assistiti che hanno agito in nome per conto della minore, riammettendola alla classe per cui era stata inizialmente non ammessa. Ovviamente trattasi di sospensiva, quindi sospende il provvedimento impugnato, quindi la minore frequenterà la classe successiva e nel merito si discuterà il prossimo anno.